Vladimir Putin non assisterà al funerale del cofondatore del gruppo Wagner, Jovgeni Prigoshin, che secondo le informazioni fornite dal Cremlino sarebbe precipitato in un incidente aereo. A confermare l'assenza del presidente russo è stato il portavoce Dmitry Peskov. Non è ancora noto tuttavia né dove né quando si terranno le esecue. Diversi indizi, a cominciare dalla massiccia presenza di polizia sul posto, indicano che il funerale potrebbe svolgersi nel cimitero Serami Foskoie di San Pietroburgo, normalmente riservato ai militari. Si tratta tuttavia di informazioni non ufficiali e non si sa ancora neanche se le esecue si svolgeranno in forma privata o meno. Grazie a tutti.